Buonasera, ciao Pietro! Come si sbuccia il melograno? Molto semplice. Si incide, la buccia così. Si stacca. Poi, all'altezza di queste venature qua, si taglia la buccia di fuori. Sembrano degli spicchi in ogni caso. Ok, dopodichè riesci ad aprirlo molto facilmente. Un bel fiore. Semplice. E si possono anche mangiare. Una buona serata. Grazie. 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 Grazie.